Buongiorno, mi trovo presso lo stradello a Pratissolo, sono qui in compagnia di Mariella e come vedete insieme ai nostri amici della cooperativa stiamo realizzando, stiamo sviluppando un progetto per la festa della donna, l'8 marzo. Vero Mariella, che cosa state facendo di bello con i nostri amici, disversamente abili? Tutti i nostri omaggi che facciamo alle donne per l'8 marzo, dove i ragazzi, quelli che riescono manualmente, utilizzano la minosa. Voce un po' alta perché se no non ci sentono. Mettono la minosa nei sacchettini, mettiamo dei nastrini con dei fiocchetti, tutte queste cose qua verranno date un omaggio dalle varie associazioni o negozi, un omaggio per la festa della donna. Perfetto, e quindi invitiamo tutte le donne per i nostri filiali, venerdì 8 marzo, a ritirare il nostro piccolo pensiero realizzato in collaborazione con lo stradello di Pratissolo. Un grazie veramente caloroso a voi, alle iniziative che al di là di questo sviluppate regolarmente sul territorio, aiutando questi bravissimi ragazzi, pieni di entusiasmo. Come ti chiami tu? Massimo. Massimo, allora saluta tutti gli amici di Credito Cooperativo Reggiano. Come è il Credito Cooperativo Reggiano? Devi fare così con la mano, una banca? Facciamolo insieme? Così, esatto, perfetta. Saluta Max. Grazie.